il belting non serve per fare le note acute è un rinforzo vocale di quelle note che stanno dopo il passaggio ha un'escursione abbastanza definita le note che sono veramente alte non vengono fatte in belting il belting si usa principalmente tra i cantanti lirici giustamente per proiettare la voce molto forte verso l'esterno e nella tecnica di musical che tra l'altro nei musical moderni in realtà non si usa tantissimo però si è usato tantissimo per avere un effetto vocale di un certo tipo stilistico è vero che ci sono gli acuti fatti in belting ma non sono le canzoni con le note tenute in acuto con frasi lunghissime linee di massima si tratta di momenti dove il cantante ti deve dare uno schiaffo ma non di fare note altissime o acute quelle raramente sono fatte in belting il belting è il rinforzo vocale che sta nel registro dopo il passaggio non confondiamolo come un miglioramento per potenziare la nostra estensione semplicemente è un modo per poter avere più proiezione vocale quindi più volume su certe note neanche su quelle altissime